Potenzialmente due grandi squadre degne di lottare per la Champions League ma afflitte dallo stesso problema, la mancanza di continuità. La troveranno questo pomeriggio al Ferraris, vedremo buon pomeriggio e buon 2010 da Genova, dallo stadio Luigi Ferraris, da dove vi salutano Massimo Tecca. Franco Causi. Ci sono Gastaldello e Rossi, Gastaldello e Sirigu si allunga in calcio d'angolo, grande prodezza su Gastaldello. Si è allargato Cassani, palla per Miccoli che la mette giù, arriva Cavani, tiro sul fondo di Edinson Cavani. Ancora Cassano, Palombo, il destro di Palombo, Sirigu in calcio d'angolo. Rossi, poi Liberani che cerca di lanciare Cavani, ancora Cavani, Cavani, gol! Palermo in vantaggio, ha segnato Cavani al quarantesimo del primo tempo il gol di Cavani. Che sale a quota 5 in classifica marcatori. Comunque una dormida dei due centrali difensivi perché non si può, se è una difesa così scherata, prendere un gol in questo modo qua. Adesso Cassano si libera di Chiaer, Cassano, Cassano! Cosa ha fatto? Pareggio di Cassano, che meraviglia! Uno a uno! Comunque il Palermo sta reclamando con la spinta di Cassano. E comunque l'azione è bellissima. Palombo anticipa Simplisio, di nuovo la Sampdoria con Palombo. Cassano, Cassano, Sirigu in calcio d'angolo. Chiaer ancora una volta si era addormentato contro Cassano che ha sfiorato il 2 a 1. Ancora Simplisio. Cavani, Cavani, prova a calciare Cavani! Anche Castellazzi, protagonista con una grande deviazione su Cavani. Simplisio. Migliaccio. La tengono lì quelli del Palermo, si accontentano dell'1 a 1.